ho sentito muovere come cos'è stato e non lo so siamo su qualcosa anch'io mamma mia lo sapevo lo sapevo anche questo natale sarà un bel disastro questa è la casa dei Cavaleri Family ciao a tutti ragazzi io sono il primo dobbiamo fare silenzio sono venuto a portare una scatola magica alla Cavaleri Family guardate la metto proprio lì eccoci qua prima di cominciare questo video iscrivetevi al canale Cavaleri Family ok e mettete un pollice in su se anche voi odiate il Natale come me sì perché io non trovo mai delle parole felici per il Natale tiriamo fuori questa scatola magica eccoci qua sì adesso mi vado a nascondere voglio vedere con i miei occhi che cosa fa la Cavaleri Family sì 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 io odio il Natale aspetta devo lasciare l'ultima cosa lasciami tu lasciami il braccio trovata ragazzi questa è la lettera per la Cavaleri Family quest'anno ragazzi non esisteranno parole felici per il Natale il Grinch rovinerà le feste a tutti ragazzi voi si è arrivando qualcuno mi devo andare a nascondere andiamo 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 non lo so anche io ho sentito dei rumori piuttosto ma dov'è finito papà salvo non lo so ma c'è una scatola una scatola ma che stai dicendo Auri ma dove la vedi la scatola scusami mamma è lì è una scatola molto strana chissà chi l'avrà lasciata qui mamma apriamola ok piano 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 Auri non so chi abbia lasciato questa scatola quindi è meglio stare un po' attenti seguitemi piano bimbe giù giù più basse ferme ma che è stato ci andiamo indietro ma come si veloce andiamo va bene spinsi stassati scusa insomma era più facile strisciare ferme mamma c'ho un biglietto un biglietto e si Auri leggi che cosa dice regala una parola per Natale con Scarabeo Scarabeo Auri ma Scarabeo è un gioco in scatola bellissimo con un sacco di lettere all'interno che cosa vorrà dire questo messaggio semplice andiamo a giocare ok apriamo e giochiamo un vero verde un altro pello verde oh no mamma il Grinch oh mamma Auri forse papà salvo si è trasformato di nuovo nel Grinch ecco perché non lo trovavamo più non ci posso credere anche quest'anno è diventato di nuovo il Grinch vabbè direi di capire che cosa c'è bene all'interno di questa scatola per essere più sicuri vediamo che cosa c'è qua dentro Auri ho sentito muovere come cos'è stato e non lo so siamo su qualcosa anch'io mamma mia lo sapevo lo sapevo anche questo Natale sarà un bel disastro come gli altri Natali Auri cerchiamo di capire che cosa c'è all'interno di questa scatola ok mi raccomando ragazzi se anche voi notate qualcosa di strano in casa o sentite dei rumori strani scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere perché ovviamente anche questa volta c'è lo zampino del Grinch in casa Cavaleri Family oltre al gioco ci sono delle lettere giganti Auri guardiamole insieme quante sono scusa mi appoggiale qua 1 2 3 4 5 ma che cosa vorranno dire Auri qui c'è una i mamma hai sentito anche tu questa risata era il Grinch ecco cos'era vado a controllare vediamo che è lì dietro stai attento Emi non c'è nessuno qua dietro dietro il divano ma non c'è niente neanche qua forse là dietro la 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 Auri guarda la no non c'è nessuno bimbe non ci facciamo distrarre torniamo alle nostre lettere perché sicuramente vorranno dirci qualcosa magari c'è un messaggio in codice l'ho capito G IG I O I A gioia che cosa sentono le mie orecchie parole felici il Grinch si sta testando male aiutiamolo bimbe siete sicure di voler aiutare il Grinch magari è pericoloso è vero che è papà salvo ma magari potrebbe mordervi oppure azzannarvi state attente forse lui vuole dire scusa a noi cosa ha fatto lui a noi si hai ragione Noemi mamma Claudia mi voglio scusare con voi perché io odiavo il Natale però adesso sto sentendo tante parole felici ok Grinch quindi noi dovremmo crederti quindi da cattivo ora vuoi diventare buono e quindi vuoi trascorrere insieme a noi il Natale si voglio provare a comporre anche io qualche parola felice insieme a voi qualche parola felice ma tu di parole felici non ne conosci affatto si tipo odio no 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 amore aspetta aspetta un attimo Grinch ragazzi e voi a casa conoscete alcune parole felici ed amore e di gioia per il Natale scrivetele giù nei commenti e fatecele sapere e soprattutto aiutate il Grinch a trovare nuove dolcissime parole per celebrare il Natale insieme a noi mamma giochiamo a Scarabeo con il Grinch noi ti perdoniamo giochiamo insieme a noi con Scarabeo si Grinch anche tu puoi essere buono andiamo ragazzi non ci potete credere Aurora Noemi e il Grinch hanno già cominciato a giocare a Scarabeo e hanno già composto le prime parole guardate felicità wow ma è bellissima e tu Emi che parole hai composto amore wow e tu Grinch che parole hai fatto ho fatto una parola felicissima ta da ma che parola è questa Grinch odio come sarebbe a dire odio Grinch questa non è una parola felice né tantomeno ci può aiutare a celebrare il Natale ma che parole usi non sei per niente cambiato ti aiutiamo noi ti aiutiamo noi eh sì mi sa che ho bisogno di tanto aiuto va bene Grinch vediamo come posso aiutarti ok allora ti darò uno spunto guarda che parola ho composto io famiglia ok questo potrebbe aiutarti a trovare la parola giusta per il Natale ah famiglia ma allora faccio parte della Cavaleri Family diventerai buono sì Grinch ti aiutiamo noi tieni allora allora sto cercando di comporre la parola felice insieme ma che cosa è questa insieme ce l'avete fatta ci l'ho fatta sì sì insieme andiamo a metterla sul tabellone Grinch dai insieme a tutte le altre parole che abbiamo già inserito insieme insieme ce l'ho fatta sì grazie a Scarabeo siamo riusciti a coinvolgere il Grinch nell'emozione di trascorrere insieme il Natale e diventare una grandissima famiglia se anche voi volete giocare a Scarabeo insieme alla Cavaleri Family lì il 17 e 18 dicembre vi aspettiamo al centro commerciale Fiordaliso di Milano per comporre insieme un sacco di parole felici e giocare a Scarabeo bellissimo questo gioco mamma finalmente sono felicissimo ragazzi se anche questo nuovo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Cavaleri Family cliccate sulla campanella e ricordatevi anche di seguirci sui nostri social Instagram e TikTok e non dimenticate anche di seguirci sul nostro secondo canale Cavaleri Sisters il canale di Aurore e Noemi ma ricordatevi che noi siamo i Cavaleri Family Grinch dove sono? vai a fare il sorletico io amo il Natale faccio il sorletico vai a fare il sorletico Aurore e Noemi veloce corri corri stanno scappando stanno scappando Grinch Aurore veloce 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 non farti beccare Grinch a terra saltatevi addosso Grinch Aurora Eemi puoi saltarvi addosso adesso ciao ragazzi ci vediamo il 17 e 18 dicembre a Fior d'Alisa di Milano ciao no ciao aspetta aspetta dove vai? clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Family clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavaleri Family ci vediamo